seconda diretta inizia anzi ancora sembra il primo tempo forza 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 uccianna 45esimo sempre 0 a 0 pareggi cronici della roma pareggi cronici della roma cesena palo del cecena mamma mia ragazzi brividi rimessa maicon finisce il primo tempo 0 a 0 fanculo un 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 la situazione per il Cesena esce a Junic entra Davide Succi inizia il secondo tempo forza Roma la mattina vai forza via via Totti recupera un pallone grandioso maestoso Totti attenzione Raja Raja attacca Raja Raja mamma mia che tiro Raja dai tira meglio Raja dai che bella sanna sveglia attacca il Cesena con la razza non si sa manco chi è Zeduardo ma un po' nomi un po' più semplici no eh sti polacchi non si sa manco chi è attenzione oh liscia Zeduardo attenzione Raja Raja oggi inizia in forma che pappa forza c'è sempre qualcuno che ne informa mannaggia Magniuson Succi recupera la Roma attenzione Adam Raja forza Raja tocca vince Totti mamma mia la barriera ha messo la barriera il burro di Berlino torino mannaggia tutti dietro ma vaffanculo cesenaccio forza medonna grandissimo recupero di Astori dai Lucianna attenzione no per un pelo ancora da dagli però su la recupera Totti sul pallone Totti 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 dai no l'impallato cazzo mannaggia intanto c'è una terra per cecina esce Zeduardo ed entra Tabanelli al 62esimo forza ancora Raja ancora Totti no oh spinti eh è la donna spinta cazzo è la rigore fanculo albisaggi ma il solito dalla Roma niente nessun rigore che dà tagli forza cazzo roba dai Flo ti sei spento un terzo secondo tempo via grandissimo Florenzi cita e mezzo non c'è mai nessuno e mezzo perché madonna ho da comprare uno che detesta che è forte un bel po se no è un casino forza attenzione attacco il cecena ogni tanto a questi attacchi il cecena però subito chiuso da Yang ambiva Ushan c'è oh grandissima partita di Ushan attenzione attenzione Yalc Totti no mamma mia Succi Kleson porco Rodríguez da solo davanti al portere Skoroski migliore in campo Skoroski salva il risultato grandissimo Skoroski attenzione Totti 1-2 con Florenzi Florenzi se ne va attenzione cross segnale di rigore Raja Raja Settisce il pubblico al settantacinquesimo Roma 1 cecena 0 e Namo cacchio era ora e adesso bisogna assolutamente mantenere questo risultato forza forza per il pallone la Roma no la riperde la recupera Totti fallo eh fischia un cacchio sta albitro albitro cornuto i mortacci tui però eh questo fischi però lo stesso fallo fischia però ma vaffanculo sta albitro forza strutman strutman grandissimo passaggio passaggio come destro come destro come quella volta destro da fuori aria mamma mia che golla 2-0 Roma la chiude Raja taglia oddio che infortunato mezzomundo attenzione attacca calcio in angolo per il Cesena comunque grandissima partita del capitano e anche di Raja forza attenzione Cesena ma che miracolo Scoruschi palo mamma mia grandi Scoruschi attenzione attacca ancora Flo Totti dribbling del capitano eh vabbè troppo perde la palla il capitano attenzione cascione la Reopic ma come te chiami ma mettete il nome recente mamma mia certi nomi non si sa manco me attenzione Mycon Mycon mamma mia oggi peggiori in campo Mycon attacca la Roma ancora Adem Cesena messa all'angolo attenzione madonna fammi i 60 cross Adem mamma mia siamo all'ottantanovesimo attenzione e ancora Scoruschi ma che grandissimo Scoruschi mamma mia sempre i titolari Scoruschi ed è finita finalmente si ritorna la vittoria si ritorna la vittoria migliore in campo Raja otto e mezzo Ennamo la Juve ha pareggiato buonissimo 2 a 2 col Genoa siamo sesti per ora a 16 punti a 5 della terza eh si è messi un po' maluccio bisogna vincere sempre big match nel stadio San Paolo Napolileno Allora stavolta Maicon via torna Scoruschi sempre idolati la storia mi è piaciuta confermo stavolta Castagna anche Bazzaricchio Cierossi per carità Stott Maneragia Florenzi a sto giro mi è piaciuto lascio Dumbia si lasciamo Gerdigno Adam Gerdigno con Napoli ci vuole uno veloce forza Napoli Roma o se vince o se vince ok procediamo verso questa grandissima sconfitta forza Kite ehi cominciamo gli avvini fanculo Napola forza forza attacca sto Napoli attenzione Mertens oddio Mertens imprendibile Mertens la recupera però vaffanculo Strottman perde la palla Kevin la recupera Castagna e cacchio però perdiamo se mi valla forza attenzione Mertens no Mertens Higuain vicinissimo al gol attenzione attacca ancora Napoli Amicic oddio è un assedio oddio Dumbia Dumbia da solo davanti al portiere no ma che te mangi Dumbia mamma mia ma perché mangi tempo no sei infortunato Dumbia ma che cacchio no chi è del Vigne ma porco cazzo speriamo che non è niente via già che è tutti infortunati oddio il Napoli attacca grandissimo Toro grande Toro cintoro proprio forza e che cacchio sto centrocampo perde sempre palla forza attenzione Higuain il pippone Higuain no mamma mia si rischia e taglie forza i mortaggi la recupera Kevin grande che ta che ta che ta che ta che tu vivi vivò attenzione Naggia Florenzi lancia Torosidis Torosidis cross Dumbia Dumbia Cristiano ma come c'è porca troll Dumbia detesta fuori insuffi diciassettesimo minuto Napoli zero Roma zero la recupera il Napoli attenzione grandissimo Castanna Castanna il miglior difensore che c'è in Serie A secondo me Gervinio è bruttissimo infortunio per Gervinio fammi vedere eh sì ma porca zia puttana esce Gervinio eh non mi sono manco sostituto ma mi c'è metto tu lì davanti Babacar mamma mia soliti inconvenienti esce Gervinio esce Gervinio al diciottesimo ed entra Babacar ma vaffanculo Maradona che ce frega Sessione un culo forza forza ma storie ma che ha fatto Marci che bilone ah no era angola scuruschi c'è e blocca tutto siamo al 22 grandissimo Bazzaretti Dumbia 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 perde la palla unissimo nostra forza vai Babacar sbaglia tutto grandissimo Bazzaretti dai stai atta ma ne c'è Bazzaretti Keita forza tocca vince grandissimo Dumbia chi è vaffanculo sti messaggi forza oddio culibali che difensore ragazzi manco un Serie D attenzione Skuruschi no Keita sbaglia tutto perde la palla attenzione Kaleon oddio Skuruschi mamma mia si è dopato Skuruschi para tutto attacca il Napoli calcio d'angolo Hiller che calcio d'angolo attenzione mamma mia ancora angolo però sveglia su sti angoli forza Skuruschi la blocca e Namo no errore di Skuruschi però stavolta no mamma mia no Skuruschi c'è però sveglia anche te Skuruschi dai Ferenzi Dumbia Dumbia che cacchio sto zunito attenzione Amcicca Amcicca fottiti dai no errore di pazzaretti cacchio che traversa di Kaleon mamma mia anzi non era Iguain mamma mia attenzione che dà però dagli non stiamo a far più niente davanti forza attenzione Florenzi Florenzi ma come fa a me sto a essere più veloce di Florenzi stronzati di FIFA bah Angolan crossa in ero di rigore fuori gioco ma fottiti una volta che ho fatto una suona buona cacchio attenzione errore del portiere del Napoli ma vaffanculo il solito culo del Napoli attenzione Amsic sempre su quella fascia ma però non si passa calchi forza attenzione Dumbia forza via sta palla Dumbia ma che cazzo sta combina Florenzi show oggi espulsione questa ebbe Coulibaly espulso al 43 fuori fuori dai coglioni vai fuori punizione buona c'è mancuno che tira le punizioni qui ma vaffanculo che casino proviamo con ragia che ne ho fatto ragia sì per carità per carità comunque Napoli in 10 dai Raffaele svegliati che si attacca ancora la Roma struttana forza che sono 11 noi altri da carinci papacarri 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 Dumbia mamma mia Dumbia che errore ma vaffanculo dobbiamo mamma mia ma che fallo è questo ma che fallo ma che te falli mamma mia ti falli scegli finisce il primo tempo Napoli 0-0 Napoli in 2 con l'espulsione di Kulibaly no Dumbia madonna mia ma che figlio bruttino in diretta allora ma che figli ma che c'è andacci fuori gioco gli racreati per la volta oddio Mertens balzaritti ancora balzaritti struttman vanno a perdere il pallone balzaritti la recupera grande partita del balzo attenzione ma che figlio va qua ma va qua qua va qua qua va qua qua è meglio giustamente mamma mia che c'è un ambolo svegli che c'è un ambolo che cazzo non è l'ambolo Al cinquanta tresimo, Napoli 1, Luma 0, fa un culo tutto, no, forza però, madonna, ma come si fa, da sto mesto, ma come fai a essere così veloce mesto, ma è buggato al massimo, ma fai un culo, dai i baccarra, che cazzo stiamo, babacarra, mamma mia babacarra, che bidone, è un bidone babacarra, esce maggio e entra in signe, e mofranco anch'io qualche sostituzione, attenzione di testa, mamma mia che culo che c'ha sto Napoli, immenso culo c'ha, ma come si fa, ma porca puttana oh, mamma mia, Ancora sostituzione per il Napoli, esce il pippone, Iguain, ed entra due in zapata, Florenzi, crossa, in aria, niente, sto zunico amaretto, bro, attacca adesso la Roma, ma qua è il nostro succuso, madonna, forza, Attenzione, mai nessuno un mezzo, non c'è, madonna però, con l'infortunio che c'è il vigno, non me ce l'ho lì, ha scombussolato tutto, attenzione, Porca puttana oh, ma come si fa, no, via Raffaele, eh, perdiamo tempo, tanto stiamo a vincere, che ti farei, i mortacci vostri, allora, forza, eh, non c'è mai nessuno che scatta su sta fascia, ma fatevi vedere, non si fa vedere nessuno, sveglia, li mortacci vostri, sveglia, ahem, 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 affanculo, che sto mangiando, ehi, sto gioca a un cazzo, si è spenta la luce, entra la luce, mamma mia, mamma mia, che è, ma che figli schizzi, che figli, ahem, beh, punizione mia, e sciammi sicca entra la gabbia di, ah, che dico io, si, non go, ahem, 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 c***o, para tutto questo, c***o, c***o, attenzione Florenzi, taglie Flò, via, ma che c***o fai Flò, datti a fuoco, forza, ma vada che culo, anche gli impalli vincono, madonna, taglie, ah, puttana, insigne, attacca il Napoli, ma vaffanculo, insigne, mamma mia, ma chi c***o ha tirato, te il Napoli, ahem, che tiro, non ho mai visto il tiro, sta paperissima, dai, 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 grande, ragia, tripling, attenzione, tumbia, 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 mamma mia, che parata, Raffael, ma vaffanculo, allora, Raffael da merda, vai, c***o si bagliarete, pacca puttana, c'era rigore però, eh, no, si è infortunato, anche tumbia, ma che c***o è, ma che, la stessa sindrome della Roma, che ha messo in questo gioco, si è infortunato tutti, ma porca puttana, diciamo a benedice, palo, madonna, che palo, madonna, che scarogna, ma vaffanculo tutto, ma che c***o sta facendo, sta partita, ma per carità, 84esimo intanto, no, no, oddio, guarda stupe la taccia di Hiller, che te potessi, ammazzata, in porta, fino che finisse alto, però in porta, molto vicino al gol, in questa condizione, la coordinazione era perfetta, eh, no, almeno il pareggio, madonna, madonna, vaffanculo, vaffanculo, si è fermato, chi altro si è infortunato, no, ragia, si è infortunato, anche ragia, e vabbè, allora, vabbè, bah, c'ho parole, solo bestemmie, per carità, stanno infortunati tutti, con chi gioco, vaffanculo, vaffanculo, all'è, lì, anche il 2 a 0, Zapata, Skoroski, salva tutto, però, mamma mia, che partita de merda, ma per carità, stanno infortunati tutti, vaffanculo, ma dove vai, no, ma che cazzo, ma vaffanculo, sta il Napoli, che cazzo, ma che cuglio immenso, snap, mamma mia, è finita, Napoli 1, Roma 0, con 300 infortuni, vaffanculo, vaffanculo, che palla, ma su ultimo, su settimo, madonna, ma qui c'è il Torino, eh, è finita anche questa diretta, qui il tempo passa come niente,